Il presidente della comunità montana Valle Seriana, Eli Pedretti, ha inviato una lettera di risposta ad un antennista della zona, Giacomo Ferrari di Pontenossa, che ha il proprio laboratorio a Clusone, il quale il primo luglio scorso aveva inviato una lettera al comune di Pontenossa per segnalare problemi nella ricezione dei canali televisivi della RAI dopo il passaggio al digitale terrestre. Lettera che l'ente ha poi girato alla comunità montana. Pedretti segnala di aver contattato gli uffici competenti della RAI che hanno dichiarato la loro impossibilità a risolvere i problemi. Tale impossibilità non deriva da un fatto tecnico, ma da aspetti di natura economica che non rendono fattibili gli interventi tecnici necessari per garantire la corretta ricezione dei canali. La comunità montana, scrive ancora il presidente, non ha le capacità finanziarie per sostituirsi nella realizzazione delle infrastrutture necessarie per una migliore ricezione dei canali.